Dovremo essere capaci di uscire di qui e di andare casa per casa, porta a porta, in mezzo alle persone. Lo faremo con la nuova segreteria, che ho immaginato composta da 12 persone e che vedrà una sostanziale divisione dei ruoli tra la segreteria e i dipartimenti. I dipartimenti saranno 25, li comunicheremo a parte dopo la prima riunione della segreteria e nei dipartimenti chiederemo di svolgere un ruolo in particolar modo a quei parlamentari che nel corso del lavoro di questi anni hanno svolto una funzione specifica su alcuni contenuti, non soltanto parlamentari naturalmente, per cui nel ringraziare la segreteria uscente alla quale davvero debbo molto in termini di riconoscenza, anche perché hanno attraversato fasi altalenanti e della quale ho davvero da spendere soltanto parole di positività, immaginiamo di costruire una nuova segreteria, un applauso che mi sembra del tutto doveroso, una nuova segreteria composta da 12 persone, da Matteo Richetti che sarà il portavoce, da Lorenzo Guerini che sarà il coordinatore, da Andrea Rossi, Matteo Ricci, Tommaso Nannicini e Roberto Giacchetti per la parte maschile, perché come sapete c'è una convinta adesione al principio del 50% e per quello che riguarda la parte femminile chiedo di impegnarsi insieme a noi a Teresa Bellanova, anche per le considerazioni appena espresse, a Giusy Nicolini, ad Angela Marcianò che è assessore al comune di Reggio Calabria, a Benedetta Rizzo che ha collaborato con molti di noi in tante iniziative di vario genere, a Elena Bonetti che è una professoressa dell'Università di Milano che forse non tutti conoscono e che viene dal mondo dei Boy Scout, essendo stata l'organizzatrice del più grande evento giovanile degli ultimi anni, la route nazionale dei rover e delle escolte e a Deborah Serracchiani.